A due giorni dallo scoppio, con l'incendio ancora non completamente domato, il presunto responsabile era stato già raggiunto da un deferimento all'autorità giudiziaria. Questo grazie all'attività investigativa, naturalmente scattata fin da subito, condotta dai carabinieri forestali della compagnia di Venafro. In città da giorni si rincorrevano voci sulla presunta identificazione del responsabile del rugo, che ha distrutto 80 ettari di Santa Croce, la montagna dei Venafrani. Il gossip, nonostante il rischio ci fosse, non ha compromesso il lavoro degli investigatori. I carabinieri del norme e della forestale in poche ore sono riusciti ad arrivare ad un nome e ad un volto, quelli di un uomo di mezza età del Venafrano che avrebbe appiccato volontariamente il fuoco. L'indagato, deferito per incendio boschivo aggravato e distruzione di bellezze naturali. Primo cruciale passo, ce ne siamo occupati in un precedente servizio, la rapida individuazione del punto d'innesco delle fiamme. Trattasi di un terreno situato nei pressi del Castello Pandone. Da lì è partito il lavoro investigativo sulle persone. Per due giorni quell'area del centro storico, oggetto di ripetuti sopralluoghi e ricognizioni. Numerosi testimoni sentiti. Proprio la collaborazione della popolazione, sottolineano i carabinieri, l'elemento decisivo ai fini dell'individuazione del presunto responsabile. A spingere ai cittadini la generale indignazione per il grave oltraggio subito dal territorio. L'indagato già da ora, si legge nel comunicato diramato stamane dai carabinieri, ha la possibilità di far avvalere le sue difese. Il procedimento, l'indagine è nella sua fase preliminare.